A nome di Borsa Italiana, complimenti ad Abitare In per quanto fatto fin dal giorno dell'IPO. La società ha confermato e superato le aspettative date al mercato. Siamo certi che con il passaggio al segmento Star la società troverà un nuovo volano a supporto del suo percorso di crescita. Oggi festeggiamo questo nuovo obiettivo che ancora una volta restituisce prestigio, credibilità e sicurezza alla nostra azienda valorizzando il lavoro di tutti. È un risultato che premia l'impegno straordinario di tutta la famiglia Abitare In. È il prezioso supporto di tutti i nostri collaboratori e partner. Grazie a tutti.